Signori, ho no ho, io sono Verges, The Game of Tonight, e benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente sto portando questa serie un po' più spesso, perché? Perché ci sono tante presentazioni nuove. Infatti nell'arco di tutto agosto dovreste vedere sicuramente almeno altri due video, che sono gli altri due archetipi presentati da Crossover Breakers. Cos'è Crossover Breakers? Crossover Breakers è un set, un deck build pack, che è in uscita in Giappone il 24 di agosto. Il 24 adesso flippiamo su flippiamo, oddio. Vi porto la vista su questa pagina di Yugipedia. Yugipedia appunto ci presenta questo bellissimo deck build pack Crossover Breakers, che appunto esce il 24 di agosto. al momento qui conosciamo soltanto Malice, Genesis e Rhyzeol. Conoscevamo questi tre archetipi, conoscevamo i boss monster, le carte più importanti, e adesso conosciamo tutti gli effetti il primo archetipo, ovvero Rhyzeol. Teoricamente questo set da noi dovrebbe uscire per novembre, io mi aspetto che esca all'incirca una settimana, una settimana e mezza prima del YCS di Bologna. Quindi bisogna tenere sott'occhio questo set, perché potrebbe essere veramente uno di quei set che cambia la situazione del YCS di Bologna. Perché? Perché di solito quando escono mazzi del genere, poi puntualmente uno di questi mazzi al big event che c'è una settimana dopo, va bene. Quindi da tenere assolutamente in considerazione. Comunque, Rhyzeol, che cosa è? Sostanzialmente è il nuovo sprite. Ma andiamo carta per carta a vedere queste bellissime figurine e a vedere anche gli effetti di queste carte che ricordano un minimo di artwork, un misto tra Matmec e Sprite. Quindi sono molto 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 carini. I sprite non sono brutti, Matmec per niente, lui è circular praticamente. Quindi anche diametro potrebbe ricordare, quindi ci sta. Ha un non so che anche di... Com'è che si chiama quel mazzo? Vabbè, insomma, Mac Fortezza misto agli infini cingoli. Non mi ricordo precisamente come si chiama il nome del mazzo. Ma detto questo, io direi di incominciare a leggere gli effetti. Sword Rhyzeol, livello 4, fuoco tuono con effetto. Qualcos'altro che ricorda di sprite, fuoco tuono. Come sprite red. E carrot. 1500 di attacco, 200 di difesa. Prima e secondo effetto, una volta per turno. Prima effetto, se hai un mostro Rhyzeol sul tuo terreno, nel tuo cimitero, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Se hai evocato in questo modo, non puoi evocare specialmente mostri da Lexarek per il resto di questo turno, eccetto mostri di rango 4. Questa è la cosa più importante, questa qui è la cosa più importante del mazzo. Il mazzo, secondo me, non sarà mai forte quanto sprite, né splashabile quanto sprite. Perché? Perché locca sul rank 4. Sprite almeno locca, sì. I livelli, ranghi e link sono molto particolari. Abbiamo livelli 2, ranghi 2 e link 2. Però almeno sprite ti locca in link, appunto, X's e livelli. Questo invece, dritto per dritto, X's rango 4. Punto. Non puoi fare altro. Quindi non lo so. Però la cosa importante, la cosa bella, è che è come gli sprite per il resto di questo turno. Quindi tu puoi utilizzarli sostanzialmente come estensione di giocata. È da vedere. Sono veramente, veramente carini, però. Su Normalo Special puoi aggiungere un Light Pyro Monster dal tuo deck alla tua mano. Quindi ci sta. È un sercino fortissimo. Light Pyro, tra l'altro, bisogna... Sì, ci stanno, ci stanno i mostri di archetipo. Ma bisogna vedere cos'altro può andare a raggiungere. Perché forse qualcosa di Light Pyro esiste già. Io adesso non so come vedrete voi il Konami Car Database, però... Boh, sì. Tanto è una cosa veloce. Mi serve un luce di tipo Pyro. Cerca. Vediamo che cosa c'è. Helios. È incantesimo candelbambola. Li vedete tutti? Sì, li vedete tutti. Bene. Non ha dei target validi al momento. Vabbè, fa niente. Ce ne faremo una ragione. Secondo mostro che è lui, Node Rizeol. Sembra, oddio, Lanius strangolante. È lui. È palesemente lui, ragazzi. È identico. È Strangolanius. È identico. È stupenda sta cosa. Va bene, quindi abbiamo Strangolanius di archetipo. Carino. Allora, Node Rizeol, livello 4, fuoco Thunder con effetto. 1.400 di attacco, 1.600 di difesa. Primo effetto una volta per turno. Secondo effetto una volta per turno. Se hai un mostro Xyz sul tuo terreno o nel tuo cimitero, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Se è evocata in questo modo, non puoi evocare specialmente mostri d'Alexa Rack per l'edito di questo turno, eccetto mostri rango 4. Secondo effetto, puoi mandare una carta dalla tua mano o terreno al cimitero per scegliere come bersaglio un mostro Rizeol nel tuo cimitero, eccetto lui stesso, evocare specialmente posizione di difesa, ma i suoi effetti sono negati. Quindi, carino, lui si evoca se hai un mostro Rizeol sul terreno al cimitero, lui si hai un Xyz sul terreno al cimitero, non ti locca per quanto riguarda l'evocazione a Xyz rango 4, cioè effetto per evocarlo dalla mano, cecca, cecca che ci sia un Xyz, non che rango è l'Xyz, poi ti locca successivamente dopo che si è evocato. Quindi è abbastanza carino, extender che ti permette di far partire la combo, è un ottimo engine, secondo me, a questo punto, questo mazzo qua, per andare a fare gratis dweller più altra roba, redoer, dweller, insomma, bisogna vedere anche l'Xyz di Archetype come un ponte forte, perché io al momento non li ho ancora letti, so soltanto che ricordano gli sprite. Il prossimo è lui, Ice Rizeol, non so dire chi ricordi, forse Valkyrie, ma va bene, mi sembrano tutte le train di carte vecchie, è impressionante sta cosa. Livello 4, luce e pyro con effetto, 1700 di attacco, 1000 di difesa, effetto di evocarlo specialmente una volta per turno, secondo effetto una volta per turno, primo effetto lo puoi evocare specialmente, questo mandando una carta dalla tua mano o terreno al cimitero, questo è veramente forte, questo è veramente forte. mandi una carta dalla tua mano o terreno al cimitero per evocare lo special, lui è veramente forte, su normal o special puoi evocare specialmente un mostro Rise Rizeol dal tuo deck, eccetto lui stesso, quindi sostanzialmente tu attivi. mandi al cimitero, evochi specialmente effetto su special, no, su normal, su normal, ok, quindi non puoi utilizzarlo come estensione di giocata, di base la cosa migliore al momento è utilizzare lui, vediamo i prossimi però. Ex Rizeol, lui è veramente diametro, lui è veramente diametro, diametro circolare insomma, là stiamo. Livello 4, luce Pyro con effetto, 500 di attacco, 200 di difesa, primo e secondo effetto una volta per turno, primo effetto puoi evocare specialmente questa carta mandando un mosso Xyz dal tuo ex Rek al cimitero. Vabbè, poi sei loccato su Ranghi 4, su normal o special e se tutti i tuoi mostri che controlli sono a livello Ranghi 4 puoi aggiungere un mostro Fire Thunder dal tuo Rek alla tua mano. Bruttino, non mi convince, cioè nel mazzo puro ovviamente è forte, è veramente forte, nel mazzo inteso come Engine, come motore di altri mazzi, non lo so. Poi abbiamo Palmarizeol, e questo non mi ricorda veramente niente, è tipo il portale di chi è che ci ha giocato, probabilmente nessuno, però ci sta un gioco Dark Orbit che ha portali simili a questi, quindi ok. Palmarizeol, livello 4, Thunder, fuoco, effetto special summon, vabbè sarà un Inerent Summon, mostro con effetto. 1.200 di attacco, 2.400 di difesa, non può essere evocato normalmente o posizionato, deve essere evocato specialmente dalla tua mano, rimischiando un mostro Rysel dalla tua mano, cimitero nel deck, barra extra deck, carino. Primo effetto, non puoi evocare specialmente mostri di extra deck, eccetto mostri di rango 4, Xyz, va bene. Secondo effetto, una volta per turno, se questa carta combatte con un mostro del tuo avversario, durante il calcolo dei danni puoi mandare un mostro di livello 4 dalla tua mano o deck al cimitero e se lo fai questa carta guadagna attacco pari all'attacco del mostro mandato fino alla fine della battle phase. Gesù santo, mi hai fatto un mostro che fa foolish di livelli 4, ma che cosa ti viene in mente? Ma perché mi hai fatto un mostro che fa foolish a caso di un mostro? Perché? Ma dimmi Rysel, non dirmi un livello 4. Quando mi ha perso totalmente la bussola per quanto riguarda sto gioco. Va bene, rango 4, ma è stupendo, mi ricorda un botto il flashback del Vietnam per quanto riguarda rongominiad, però spero di sbagliarmi sinceramente. Rysel, duo drive, rank 4, fire thunder, Xyz con effetto, 2500 di attacco, 2000 di difesa come materiale vuole, 2 più mostri di livello 4. Prima e terza effetto, una volta per turno. Prima effetto, se questa carta viene evocata specialmente puoi attaccare un mostro Rysel dal tuo cimitero a questa carta come materiale, onesto, ci sta. Non danno effetti aggiuntivi quelli che abbiamo visto fino ad ora, quindi ci può stare. Secondo effetto, per ogni materiale attaccato a questa carta, questa carta guadagna 100 di attacco, inoltre i mostri che il tuo avversario controlla perdono 100 di attacco. Io insisto molto spesso su questi effetti perché molti dicono, eh ma questi effetti sono un po' così. In realtà te ne dimentichi di questi effetti e ad un certo punto diventano veramente rilevanti. Quindi c'è da considerarla anche questa cosa, ovviamente varia in base, 100 di attacco e meno 100 per ogni materiale, un po' pochino, però a lungo andare potrebbero diventare problematici. Terza effetto, durante la tua main phase puoi staccare due materiali Xyz da questo mostro e se lo fai aggiungi due carte Ryzeol con nome diverso dall'altorecca alla tua mano. Ok, grosso, veramente grosso, meno male che aggiungi Ryzeol e non hanno deciso di fargli aggiungere boh, due mostri random. Quindi va bene. E poi abbiamo Dead... Com'è che ti chiami? Deadnader. È un robottone con i pugni nelle mani. Va benissimo. Vuole imitare Gigantic ma non ci riesce. Rango 4, luce, pyro, Xyz con effetto, 3000 di attacco, 2500 di difesa, grossino, 2 più, livelli 4, Ryzeol. Quindi va bene. Prima e terza effetto una volta per turno. Prima effetto su special puoi attaccare un mostro dal tuo cimitero a questa carta come materiale. Vabbè. Potevamo aspettarcelo. Quello attacca un Ryzeol. Questo attacca un mostro. Va bene. Secondo effetto, quando il tuo bersaglio attiva una carta di effetto puoi staccare un materiale da questa carta. Target è una carta sul terreno, distruggila, quindi è uno spacchino rapido. È Drydent praticamente. Però in risposta all'attivazione di carta o effetti. Terzo effetto. Se uno più mostro di Xyz che controlli stanno presi e istituti in battaglia gli effetti di carta, puoi staccare un materiale da questa carta invece. Simpatico. Non è esageratamente forte, però onesto. Il problema è che ad un certo punto incomincia a perdere materiali, quindi... Vabbè. È da vedere. Poi abbiamo le magie. La magia. Abbiamo una magia... Una magia, una trappola. Sì. E poi le distampe che sono Red 2 e Red Drago Tornado. Vabbè. Un mazzo rango 4, quindi ci stanno tantissime. Che è il posto dove producono i Ryzeol. A quanto pare. Ryzeol plug-in. Magia rapida. Puoi attivarne una per turno. Scegli come bersaglio un mostro Xyz o Ryzeol nel tuo cimitero o bannato. Evocalo specialmente. Si sente, attacca. Una carta Ryzeol al tuo deck. Ha un tuo mostro rango 4 Xyz come materiale. Inoltre non puoi dichiarare attacchi per il resto di questo turno, eccetto con mostri Xyz rango 4. Ok. Boh, non fa da consistenza. Non lo so. È una carta mid combo perché devi avere già un Xyz monster o un Ryzeol. Quindi, boh, va bene. E poi abbiamo Ryzeol Hall Thruster. Che è questa qua. Molto belli i disegni. Veramente carini. Trappola normale, secondo effetto una volta per turno. Primo effetto puoi targettare carte scoperte che il tuo versetto controlla fino al numero di mostri Xyz Ryzeol che controlli, distruggile. Successivamente puoi attaccare una carta Ryzeol dal tuo cimitero a un tuo rango 4 Xyz mostro come materiale. Mostro Xyz rango 4 come materiale. Ok, va bene. Quindi, sì. Prima e secondo effetto, non solo il secondo. Una volta per turno, quindi sì, va bene. Praticamente fa da compulsori che spacca. Non mi viene nessuna carta che può essere simile a questa, in realtà. Di effetto. Ma va bene. Secondo effetto. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero. Immediatamente dopo che questo effetto sia risolto, evoca Xyz utilizzando mostri che controlli, incluso un mostro Ryzeol. Carino, sì. Semplicemente carino, una carta simpatica, niente di più. È una bella interruzione che si può avere. Si basa tutto sullo spaccare e realisticamente sull'avere Redoer più Dueller a fine turno. Non lo so. Io al momento, ragazzi, gli darei meme a questo mozzo. Ha potenziale, molto potenziale, specialmente come engine. Ti può permettere di andare, dopo che hai fatto la giocata, hai un Xyz a terra, speciali lui. Che poi devi aver scartato... No, è terrificante. Come engine, non lo so. Sta incominciando a non convincermi manco più, perché... Avesse avuto lui l'effetto anche su special... Cioè... Sarebbe stato veramente un engine rotto, 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 rotto. Ma tanto rotto. Perché lui, specialato, ti avrebbe permesso di evocare specialmente... Di uscire un Rise Old al mazzo. Quindi uscivi tipo lui. E lui su special ti permetteva di aggiungere un Light Pyro. Quindi ti permetteva di aggiungere un altro Extender, volendo. Che poteva essere lui. Quindi... Se questo avesse avuto la dicitura Special Summon, lui lo evocavi special a capocchia. Se avevi un Xyz a terra. Eh... No, mandando una carta, pardon. Quindi lui poi, di conseguenza, avrebbe portato lui. Che avrebbe aggiunto lui. Che si sarebbe evocato special. E sarebbe stato un bel... Un bel archetipo Extender. Così un po' tanto limitato. Su di lui hanno sbagliato. Poteva essere molto, molto, molto più forte. Certo, per carità. Meglio limitare le carte piuttosto che dare carte rotte. Però, cioè... A questo punto mi limitavi l'effetto di evocazione. E mi davi un effetto più forte. In modo da farlo utilizzare come engine. Non lo so. Io al momento lo vado a definire meme, ragazzi. È un po' particolare come mazzo. È da vedere. È da vedere che fine farà. Non mi convince fino in fondo al momento. Ovviamente devono ancora presentare le ultime carte. Penso che siano ultime carte. 001, 002, 003, 004, 005, 6, 7, 8 e 10. Quindi abbiamo... Il 9 potrebbe essere una magia normale o una magia terreno. Una magia normale magari che dà consistenza al mazzo. Perché gli permette di portare dal mazzo un mostro Ryzeol. Potrebbe essere una magia non limitata una volta per turno. Nel senso che puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. E una magia attivata ti permette di aggiungere un mostro Ryzeol. E poi la puoi bannare per durante il turno essere loccato in rango 4. E avere una norma raggiuntiva di mostro Ryzeol. Questo risolverebbe il mazzo come engine. Perché poi tu attivi quell'eventuale magia. Sperando che sia una magia. Perché, ragazzi, potrebbe anche essere una trappola. Così come potrebbe essere una magia terreno. Io sto pensando a una magia normale come la 9. Praticamente la attivi. Ti aggiungi l'ice Ryzeol. Che poi fai normal perché bandisci la magia dal cimitero. Effetto. Vai a prenderti il Ryzeol Sword. Che poi ti va a prendere il Ryzeol X. E quindi così diventa anche un engine carino dal punto di vista di un motore di mazzo per andare ad extendere la giocata a fine combo. Diventerebbe un 3-1-1-1. Quindi sarebbe un engine di 6 carte. Molto 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 valido. Se vuoi puoi anche mettere la trappola e avresti un engine di 7 carte. Sarebbe veramente interessante. Vediamo che cosa uscirà per quanto riguarda la carta numero 9. Che realisticamente è l'unica carta di questo set che deve uscire. Poi uscirà eventualmente la carta di supporto in altri main set. Detto questo, ragazzi, scrivetemi qua sotto che cosa ve ne pare di questo mazzo. Ha potenziale, ma bisogna sfruttarlo bene. Konami vediamo che cosa deciderà di rilasciare come carta numero 9 del mazzo. Detto questo, per me è il momento meme. Vedremo quando uscirà la carta nuova. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Oh, oh, oh. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.